Questa serata che procede progressivamente verso il punto clou, cioè la premiazione, ma prima della premiazione abbiamo deciso di dedicare un momento di approfondimento, di riflessione per discutere di alcuni temi più caldi del presente ma anche del futuro, come ci suggerisce proprio il titolo di questa intervista, ritorno al futuro, green and digital, le grandi sfide della transizione. E quindi io chiamo sul palco per approfondire questo argomento l'avvocato Gianluigi Serafini, partner di LS Lexius Sinacta. Un applauso per lui. Valentina noi ci vediamo più tardi naturalmente. Lascio il palco e torno più tardi. Esatto, tu avrai altri compiti più tardi, non spoileriamo niente. Buonasera, si accomodi pure. Beh, del resto la parola sostenibilità è già stata anticipata anche dai nostri ospiti che sono intervenuti sul palco, ovviamente a livello istituzionale, ma insomma nessuno può allontanarsi da queste sfide a cui siamo chiamate, perché chiaramente parliamo poi di eccellenza, di competitività, di attrattività. E allora partiamo proprio dal fatto che l'Unione Europea punta sulle transizioni gemelle, le definiamo così verde e digitale, per la neutralità climatica e per un futuro che sia sempre più sostenibile, eco e competitivo. Dobbiamo rispettare dei criteri che sono i criteri ESG, ricordiamo insomma, anche se li conosciamo tutti, environmental, social governance, che sono già stati fissati, sono già stati fatti dei passi significativi negli ultimi anni, però mi permetta di dire, non so se è d'accordo, che la strada resta lunga. Quindi le chiedo subito per andare nel concreto quali sono i prossimi step, parliamo del presente e del futuro, che poi sono assolutamente collegati, perché quello che si fa oggi serve per il futuro. Secondo la sua prospettiva, secondo la vostra prospettiva? Ma oggi parlare di sostenibilità è un tema di cui ne parliamo in tutte le sedi, forse anche troppo, nel senso che se ne parla bisognerebbe passare poi dalle parole poi a capire nel concreto che cosa stiamo facendo. La domanda è interessante perché dobbiamo anche tenere presente che quello che stiamo vivendo in Europa è un elemento particolarmente innovativo che non coinvolge altre parti del mondo. Quindi tutto il processo sulla sostenibilità e sulle normative comunitarie in materia che ci dovrebbero portare nel 2030, voglio dire, a raggiungere determinati obiettivi, al di là della Convenzione di Chioto, non hanno necessariamente avuto gli stessi ricepimenti normativi in altre parti del mondo, quindi negli Stati Uniti e in particolare nel mondo asiatico. Questo fa sì che l'Europa gioca una scommessa, gioca una scommessa di innovazione molto forte rispetto ad un problema obiettivo che vediamo tutti noi tutti i giorni, voglio dire del cambiamento climatico, della necessità di rendere un mondo diverso e nel futuro. E sta giocando all'avanguardia rispetto ad altre parti del mondo, è una scommessa importante perché parti del mondo continueranno e stanno cercando di rallentare per poter produrre ed inquinare, noi ci mettiamo in un problema che con le aziende le invitiamo e le formiamo a spendere, io dico a investire nel loro futuro e in quello delle prossime generazioni. È ovvio che la scommessa europea è molto legata anche alla politica, cioè molto dipenderà su cosa capiterà, cosa capiterà ad esempio alle prossime elezioni europee. Ovviamente lo scenario di questa evoluzione è uno scenario che è inevitabile ma può avere tempi più o meno brevi e applicazioni diverse secondo un andamento politico in un'Europa che ha avuto per anni della stabilità ma ha anche tante distrofie nell'ambito, voglio dire, del rapporto fra i vari paesi. Quindi questo è un tema, io penso che quello che abbiamo e stiamo facendo sia un percorso inevitabile. Sempre più spesso arrivano direttive comunitarie che sono vincolanti per i paesi, i paesi si stanno adeguando ma soprattutto mi sembra che la cultura dei giovani e non solo dei giovani sia andata al di là delle norme, perché le norme possono disciplinare un fenomeno ma se non abbiamo la cultura dentro di noi dei comportamenti non sarà mai una norma che potrà imporla. E venendo al mondo dell'impresa, che è quella con cui noi lavoriamo, il tema centrale è far capire che quando si deve affrontare un percorso di sostenibilità non si spendono dei soldi, ma si investono dei soldi perché questa azienda possa continuare a lavorare nel futuro. Allora, quando si cambia questo concetto, quindi nei budget di investimento, bisogna iniziare a pensare qual è il sistema innovativo perché si possa, da un lato, a continuare a lavorare, continuare ad essere allineati con quelle che sono le esigenze del mondo dei prossimi dieci anni, perché io devo garantire l'azienda, quello che ha prodotto, l'ho già visto nel mio conto economico, l'ho già distribuito, io devo pensare che fra cinque o dieci anni questa azienda potrà continuare a lavorare. Pensate a cosa è successo al distretto dell'automotive, voglio dire, col cambio, voglio dire, in atto e la confusione che c'è oggi fra macchine a benzina, macchine elettriche, macchine a idrogeno e la difficoltà. Per quel genere di imprenditori, immaginare il loro futuro, che cos'è? Certo. E soprattutto il futuro delle famiglie, dei loro dipendenti, quale tipo di riconversione di formazione, bellissimi gli interventi che mi hanno proceduto delle attività istituzionali, perché se non pensiamo e non facciamo capire che lo sforzo è uno sforzo comune per produrre valore e lavoro, e da qui la necessità, il titolo che mi ha introdotto era la parte, non ci può essere sostenibilità senza trasformazione digitale, ma è abbastanza evidente che è un mondo che si sta modificando. Poi, io non credo che il mondo sarà fatto da quella signorina di intelligenza artificiale, ahimè. Meno male così non ci sostituiscono, perché se no noi non abbiamo più il mestiere, praticamente, così come tanti anni, diciamo che deve essere governata l'intelligenza artificiale, lo sappiamo. Io penso sempre di più che noi dovremmo avere un mondo, sì, di tanti ingegneri, ma probabilmente anche di tanti filosofi, cosa che abbiamo dimenticato. Vero. Perché se non sviluppiamo l'intelligenza, le macchine saranno sempre più forti di noi. Quindi dobbiamo tornare, e non a caso negli Stati Uniti, se andate nella Silicon Valley, ci sono ormai più umanisti che ingegneri che lavorano. Questo è un tema che in Italia forse... Sì, anche perché le macchine lavorano con l'intelligenza umana, insomma, non è che quella la dobbiamo mettere da parte, dimenticare. Quella è difficile da sostituire, perché noi abbiamo una cosa che le macchine non hanno, la creatività. È vero, ha ragione. Eh sì, infatti quella non la può sostituire nessuno. Senta, una domanda anche che vuole essere un po' provocatoria, se vuole, avvocato. Quando si parla di transizione energetica, ovviamente si tende a porre anche giustamente l'accento sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Quindi, se prendiamo l'acronimo ISG, la prima cosa, e forse anche l'unica che a volte si valuta è l'ambiente, però c'è un'altra lettera che fa parte di questo acronimo, che è governance, che è pure l'ultima lettera, quindi non so se poi, per quello dico in modo un po' provocatorio, glielo chiedo, ha una rilevanza altrettanto significativa, anche in funzione dell'accesso al credito, perché noi stiamo parlando di imprese, di aziende, di produttività, quindi questo deve essere assolutamente in pole position. Qual è il vostro punto di vista? Cioè, la provocazione è perché se ne parla sempre troppo poco rispetto agli altri aspetti? La provocazione è interessante. Allora, intanto vi spiego perché ho iniziato a occuparmi di questa materia. Io faccio prevalentemente l'area corporate e capital market nel mio studio e mi occupo di finanza straordinaria. Facendo questo tipo di attività e guardando un po' quello che capitava nel mondo ISG, abbiamo visto che questo tema della governance, che è totalmente sottostimato, non considerato, anche negli assessment che fate nelle vostre aziende, vedrete che di governance se ne parla pochissimo, soprattutto nelle piccole e medie imprese, o nelle imprese di famiglia, anche di una certa dimensione. In realtà, lavorando col mondo della finanza, ci siamo accorti che in realtà il vero spiraglio per cui il tema ISG per l'azienda diventa determinante e in parte anche quello della struttura della lettera G, della good governance. Io la chiamo sempre double G, perché in realtà questo elemento è un elemento abbastanza subdolo, che male è rappresentato, ma che oggi diventa fondamentale. Vi spiego il perché. Molti di voi avranno visto o avranno incontrato i loro istituti di credito quando iniziate a fare delle operazioni finanziarie di finanziamento un po' strutturato e iniziano a sottoporvi dei prodotti che siano compatibili con gli ISG, cioè iniziano a chiedervi dei report di sostenibilità o lo Stato, perché oggi, ad esempio, un finanziamento, chiamiamolo Green, o un'azienda che rientri in questa tipologia di finanziamento può avere un risparmio fra lo 0,70 e lo 0,90%. Stiamo parlando di risparmi importanti con i tassi che ci sono oggi. Ha maggior ragione se si tratta di investimenti strutturati, la sottoscrizione di un bond, anche la sottoscrizione di equity, perché molti fondi, soprattutto quelli americani, ma anche quelli europei, fanno raccolta per impiegarli esclusivamente in aziende che sono gli ISG compliance. Quando si va a vedere questo, si inizia a vedere in generale quello che è l'assessment. Sulla G, le società che se ne occupano molte volte vanno un po' a leggere, vediamo un po' cos'è, c'è la diversity, c'è un consiglio, abbiamo messo, c'è una moglie che serve a fare la diversity, c'è una sorella, cose tristi quelle che stiamo vedendo. In realtà, fino ad oggi, che su questo tema è stato anche scritto pochissimo, non si è capito che cos'è la lettera G. Quando noi parliamo di sostenibilità rapportata ad un'azienda, parliamo di sostenibilità nel tempo. Così come la sostenibilità nel tempo di un'azienda ci deve essere per la parte dell'inquinamento, per la parte del rispetto sociale, dei lavoratori, dell'ambiente del lavoro, deve anche garantire, con adeguate strutture di compliance, di cui la governance è una parte, la governance non è solo il consiglio d'amministrazione, è come è strutturata l'azienda, quali sono le deleghe, quali sono i presidi del rischio, perché questo consente a dire che quell'azienda ha la possibilità, guarda che il presidio del rischio è un elemento fondamentale, che è totalmente cambiato negli ultimi anni. Cioè in economia, chi di voi ha fatto economia, studiatevate il cigno nero, che era una cosa che poteva capitare una volta teoricamente, capitò lì in Mambrasa, è arrivato il cigno nero, non era mai arrivato. Negli ultimi anni è arrivato il Covid, è arrivata l'Ucraina, è arrivata la Palestina. Cioè qui il cigno nero ha avuto una capacità riproduttiva incredibile, voglio dire, quindi... Si è moltiplicato effettivamente. Vuol dire che il tema della compliance e della previsione del rischio diventa fondamentale, e lì dove la trovate? Quando andate in banca senza saperlo a chiedere un finanziamento, nell'ambito delle valutazioni del rating, la vostra governance ve la valutano già, perché la banca vuol sapere se quell'azienda ha o no continuità, se è in grado di prevedere quello che succede. Quindi la governance è un elemento fondamentale rispetto a questo, ma soprattutto è fondamentale perché quelle lettere I ed S, cioè della sostenibilità, questo modo di vivere l'azienda sostenibile, o è trasferito dentro ai livelli di governance dell'azienda, perché noi dobbiamo andare a vedere, quando noi facciamo questo tipo di attività, noi abbiamo un team dedicato a questo tipo di attività con cui affianchiamo la parte più ingegneristica o giuslavoristica, andiamo a vedere poi quali sono le direttive aziendali per cui questa cultura della sostenibilità sociale ed ambientale viene poi trasferita all'interno dell'azienda, perché se io non faccio formazione all'azienda e non ho i dirigenti preposti che hanno quella cultura e nei loro budget non sono previsti o le incentivazioni o i premi per raggiungere l'obiettivo, non ho fatto niente. Quindi ho scatto. Cioè il rischio è quello che questo tema diventi, molti di voi avranno nelle loro aziende il modello 231, che probabilmente sapete, che è quello sulla responsabilità penale delle imprese. moltissimi hanno fatto dei modelli che sono fittizi, che non sono concreti. La stessa cosa si può fare che il modello di sostenibilità, ma attenti, c'è un grosso rischio, perché il mondo farà sì che prima o poi Banca d'Italia ha già dato una direttiva agli istituti di credito, la banca dovrà andare a verificare a campione se coloro che hanno dichiarato che avevano i requisiti, quei requisiti li avevano o no. E se non li hanno, nelle clausole dei finanziamenti che molti hanno sottoscritto, anche di voi senza saperlo, c'è scritto che in caso di verifica c'è la rivoca del finanziamento. Quindi il tema non è assolutamente banale, ma allo stesso tempo molte delle vostre aziende lavoreranno in filiera. Il capo commessa, che è la grande multinazionale, farà dei protocolli, così come c'è stato in tutto quello che riguarda il mondo della filiera, voglio dire sulla certificazione, in cui coloro che lavorano nella loro in filiera con quel capo commessa devono attenersi a quei determinati criteri. E se non si atterranno a quei determinati criteri imposti dalla casa madre, o che voi imporrete a quelli sotto, tutta la macchina crolla e si esce dalla produzione. Quindi oggi investire su questo vuol dire garantirsi di poter lavorare nei prossimi dieci anni. Ecco, esatto, e non è poco assolutamente. Guardare con lungimiranza è una parola un po' più banale, lei l'ha spiegato, avvocato, in modo assolutamente preciso. A questo punto, in un flash, prima di salutarla, le faccio questa domanda. Al di là del fatto che la sostenibilità debba sempre di più essere un parametro, anzi, lo è già, un parametro da rispettare, anche alla luce di quello che lei ci ha raccontato, ma secondo lei è il caso, barra, c'è la possibilità che diventi, anche in tempi brevi, una filosofia di vita? Cioè, lei prima per esempio parlava giustamente della cultura, il retaggio culturale che a volte non ci fa andare oltre. Ebbè, più o meno stiamo chiedendo la stessa cosa. Io la chiamo filosofia di vita perché diventerebbe ancora più intenso come concetto. Cosa ne pensa? E poi la saluto. Io sono molto convinto di questo e parto da un esempio molto pratico. Io assisto da sempre a una grande multi-utilities italiana, anzi, alcune multi-utilities italiane. Vi ricordate quando è partita la raccolta differenziata, no? Oh, sembrava un mostro. Ognuno di noi diceva, tutta sta roba, devo mettere qua, devo mettere di là, lotte interne alle famiglie, gente che di nascosto andava. Oggi, voglio dire, se un ragazzino in una casa lo facciamo crescere e vedi che metti una cosa di traverso, ti guarda male. Quindi, io penso che così... Ho fatto un esempio pratico. O quando si è messo in Inghilterra o negli Stati Uniti il divito di fumare addirittura agli esterni degli uffici. All'inizio vedevi tutti quelli nascosti, se uno accende la sigaretta sono tutti lì con l'occhio, che dire, se dovessimo rifumare il cinema. Assolutamente. Ecco, io penso che la sostenibilità, così come la stiamo vivendo, e soprattutto vedendo, cioè, al di là di, voglio dire, dei utusi e dei ciechi contro tendenza, vediamo che questo mondo bellissimo in cui stiamo l'abbiamo rovinato e che probabilmente non ci sarà più. Quindi io penso che diventerà veramente uno stile, una filosofia di vita in cui quelle imprese che non lo saranno... Vedete, faccio un esempio. I grandi gruppi dell'Oil & Gas, vedete la pubblicità che stanno facendo oggi per televisione, hanno bisogno di ricostruirsi una verginità, perché sanno benissimo che devono vendere benzina, roba terribile, e quindi devono reinvestire buona parte dei loro ricavi in altre attività. Questo vuol dire che quando gruppi di queste dimensioni che hanno in mano un pezzo del dominio del mondo si muovono in questo modo e sentono l'esigenza. Guardate la pubblicità dell'Eni, guardate la pubblicità delle... Vero. Si parla più di quello che fanno, ma di dove mettono i soldi per fare le cose per diventare bello il mondo. Assolutamente. Io penso che questo nel giro di qualche anno farà sì che nessuno si vanterà di inquinare o di avere un'azienda non ecosostenibile. Il problema è investire per arrivarci e chi ci investe prima, secondo me, prende fette di mercato, quindi non sta buttando via. Esatto. Speriamo anche senza, come dire, magheggi strani. Adesso non apriamo la parentesi, però ci sono anche persone che fanno finta di farlo. Magari tra un po', sa a cosa mi sto riferendo, ma insomma, magari tra un po' invece non ci sarà neanche più questo pericolo. perché, torniamo alla domanda che le facevo, diventerà una vera e propria filosofia di vita e poi speriamo che ci sia anche appunto sempre più rischio di competitività e di rimanere indietro. Calcoli che questo tema è un tema delicato, però su questo la comunità europea sta lavorando molto. perché arriverà una direttiva proprio sul greenwashing che è il vero tema di come si usa strumentalmente oggi l'essere green. Già in Italia siamo avanti perché la legislazione italiana, indipendentemente da quella europea, oggi consente già e sia tramite l'antitrust che è deputata come autorità di controllo della concorrenza del mercato, sia per la normativa civilistica e per la class action, così come applicata la direttiva comunitaria, di poter agire nei confronti di coloro che utilizzano arbitrariamente l'area green senza poterlo essere. Arriverà a breve una direttiva comunitaria su questo tema, molto specifica e analitica e quindi diciamo che le regole per cui tenere realmente il mercato e poi il mondo è fatto di furbi, però voglio dire ci saranno anche le sanzioni. Esatto, appunto, sempre meno furbide, mettiamola così. Un applauso, io ringrazio l'Avvocato Gianluigi Serafini, partner LS Lexius Sinacta. Grazie per... Grazie mille, lasciamo pure qui. Grazie mille, Grazie a tutti.